E quando è l'ora della colazione della merenda in Sicilia, guardate cosa vi aspetta. Amici di Bella Sicilia, buongiorno a tutti! Buongiorno! Buongiorno! Ma quanti sapori, quante eccellenze abbiamo qui! E poi abbiamo il dolce simbolo della giornata odierna, ossia... La torta alla mimosa. Questa in particolare è arricchita con le fragole fresche. Ma c'è l'imbarazzo della scelta! Cosa notiamo in questa vetrina? Abbiamo i dolcini tipici di questa giornata, con la bussa alla mimosa, le torte classiche, i babà con la crema chantilly, le fragole e la frutta, i cannoli tipici siciliani, le tortine, i biannesi... i cannolicchi e un po' tutta la... la pasticceria... E chi viene in Sicilia naturalmente si arricchirà di sapori, di gusto... Di colori, di colori, di sapori tipici siciliani. Allora invitiamo tutti in Sicilia a gustare queste eccellenze, cosa diciamo? E allora invitiamo tutti in Sicilia a gustare queste eccellenze. E complimenti al nostro pasticcerio Agostino, che oggi ci ha deliziato con queste belle novità. Complimenti Agostino! E grazie agli amici di Bella Sicilia per la visione. Un caro saluto a tutti! Grazie! Con queste eccellenze! Quale di queste è il vostro preferito? Cosa amate maggiormente? Lasciatelo scritto nei commenti! E dal prossimo video! Grazie! Arrivederci!